più di più più di più luce come fai il cise come si fa il cise come si fa il cise che vuoi fare? un po' di più come si torna guarda che continua a girare più finita alla fine non c'è da un cote lui ha problemi ai ginocchi, fallo te fallo te, ha detto uno, forza, ancora, vai Luigi entra bene Luigi con quell'anca ok, ok, ancora ok ah ah ah, che bello ah ah che bello come si? ah 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 questo è come tendere così ce lo mettiamo nel programma si 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 manca vai ci pianto poi cambia ti lascia lo spazio libero ti invita a prendere l'altro si è come manipolare il suo corpo, gestire il suo corpo lo ripeto ancora una volta, i giovani devono avere dinamica, armonia, disciplina non cascare Luigi il suo corpo, gestire il suo corpo, gestire il suo corpo